Benvenuti nel mondo di Alfred Daniel. Alfred Daniel è un brand di orologi che combina la raffinatezza inglese con la precisione svizzera nella produzione di orologi di lusso. Fondato nel 1903 a Londra, il marchio ha una lunga e ricca storia nel settore dell'orologeria, che si riflette nei suoi modelli iconici e nella qualità del suo lavoro. La storia di Alfred Daniel inizia nel 1903, quando Alfred Daniel, un imprenditore inglese con una grande passione per l'automobilismo, decide di creare il suo marchio a Londra. Il suo obiettivo è di offrire accessori di lusso per gli automobilisti pionieristici, tra cui orologi da cruscotto rimovibili, che si possono portare al polso o al collo. Nel 1905, Alfred Daniel deposita un brevetto per strumenti orologeri, aprendo la strada al primo segnatempo Daniel. Nel corso degli anni, Alfred Daniel continua a produrre orologi di alta qualità per gentiluomini esigenti, che apprezzano la raffinatezza inglese e la precisione svizzera. Oggi, il marchio Alfred Daniel è ancora attivo e produce orologi di lusso per collezionisti e appassionati in tutto il mondo, mantenendo intatta la sua tradizione e la sua qualità. L'azienda è gestita dalla famiglia Richemont, che ha acquisito il marchio nel 1993. La collezione di orologi Alfred Daniel è composta da modelli esclusivi realizzati con materiali di alta qualità e movimenti svizzeri di alta precisione. Se stai cercando un orologio di lusso, Alfred Daniel è il marchio giusto per te. Con la sua raffinatezza e la sua precisione, gli orologi Alfred Daniel sono il simbolo dell'orologeria inglese. Grazie a tutti.